È necessario che sulla questione dei pini di via Domminzoni i cittadini e soprattutto i residenti del quartiere abbiano le idee chiare. Il progetto di sostituzione di quei pini e il rifacimento di tutta quella strada mettendola in sicurezza incomincia già nel 2021. Ci sono stati vari incontri con i residenti e la cittadinanza fino al 2024. Nella quale era previsto l'abbattimento e non ci erano state obiezioni. Recentemente il Comitato per il Verde ha sollevato delle obiezioni, ha presentato una perizia tecnica. Noi ci siamo confrontati sia con il Comitato sia col perito. E' venuto fuori che il progetto di rifunzionalizzazione dell'intera area e di messa in sicurezza della strada, che vi ricordo come potete vedere dall'elenco degli incidenti provocati, quella situazione ha provocato diversi incidenti, come potete vedere, e diverse disfunzioni. Quindi noi mettiamo in sicurezza la strada creando anche un rondò e invece dei 60-66 pini che hanno dato questi problemi, perché come potete vedere i pini sono stati piantati in appena 5 cm di terreno e quindi nella roccia. Le radici hanno invaso persino le tubature dei sottoservizi elettrici e negli anni precedenti sono stati fatti degli interventi contenitivi, come oggi suggeriscono il perito e il Comitato, ma non sono serviti a nulla. La questione è che invece dei 66 ne verranno 140 alberi. Noi abbiamo avuto questi finanziamenti su un procedimento cominciato nel 2021. Ora, ricambiare il progetto, come giustamente dice lo stesso tecnico del Comitato, che si tratta di fare un altro progetto, significa perdere i finanziamenti, ma soprattutto vorrei farvi osservare che invece dei 140 nuovi alberi che cresceranno in breve tempo, noi, è come se adesso facessimo un discorso, io mi tengo i 66, mantengo la situazione così com'è e riviare nel tempo, a tre anni, a quattro anni, il problema. Oggi c'è davvero la possibilità di rinnovare l'intera arteria, metterla in sicurezza, aumentare il numero degli alberi e il progetto finito, come potete vedere dalle immagini, consegnerà un'area funzionale, con più verde, con sicurezza e guardando al futuro.